boh boh internappoli 1 a 0 in questo momento vivo sentimenti contrastanti sapete raga non lo so forse un pareggio mi sarebbe stato meglio diciamo da un lato cioè siamo a meno 7 davanti stata la classifica eravamo a meno 10 da un altro lato continuiamo ad avere l'inter dietro le chiappe e per come si è giocato oggi onestamente per il momento non mi faccio molte illusioni sul proseguo di questo campionato boh non so davvero come pensarla perché raga io ho visto la differenza tra le prestazioni delle milanesi e la nostra e onestamente ragazzi bisogna dire che forse davvero il pareggio sarebbe stata la cosa migliore poi vabbè questo è un campionato che va vissuto partita dopo partita consapevoli dei nostri limiti senza badare più di tanto agli avversari che in questo momento stanno meglio di noi internappoli 1 a 0 devo dire che ho visto una bella inter una vittoria da inter una vittoria fatta di grinta di cazzimma ho visto l'inter di coppa ho visto l'inter ho rivisto l'inter che ha giocato col barcellona ho rivisto evidentemente l'inter quando ci sono queste sfide si esalta l'inter quando trova delle squadre che basano la loro identità sul bel gioco l'inter vince quasi sempre ecco perché io fin dall'anno scorso dico che in un ipotetico inter manchester city va avanti l'inter per me va avanti l'inter vedete ragazzi questa è una squadra che sa stare bene in campo è una squadra affiatata è una squadra che lotta è una squadra è un inter è l'inter che abbiamo sempre conosciuto l'inter delle notti di coppa l'inter che vince lottando soffrendo perché bisogna dire il napoli ha tirato bisogna pur dire che il napoli ha tirato una volta in porta e negli ultimi minuti con quella parata di onana basta cosa vuol dire questo che l'inter ha saputo imbrigliare il napoli l'inter ha saputo imbrigliare il napoli vedete ora non so naturalmente in teoria ci sta tutto se questa partita fosse arrivata se non ci fossero stati questi 52 giorni di pausa come sarebbe finita questa partita fatto sta che adesso raga io non so con chi gioca la prossima il napoli so soltanto che fra due partite ce le abbiamo andiamo noi in casa loro boh onestamente non so che partita aspettarmi pensiamo prima l'udinese che è meglio e loro non so con chi giocano l'inter va a monza attenzione l'inter col monza rischia occhio a questo monza prestazioni dei singoli non so a voi amici interisti ma a me la prestazione di lukaku è piaciuta è chiaro che signori voi state vedendo il vero lukaku voi state vedendo il vero lukaku il vero lukaku non è quello dei due anni di conte lì è stato bravo conte a spremerlo a spremerlo completamente a tirare fuori il ma fino a quel midollo di lukaku comunque oggi la partita mi è piaciuta si è si è sbattuto ha creato difficoltà si è rivista la fisicità dei tempi belli poi con geco fa devo dire fa una bella coppia d'attacco davvero se se a simone venisse in testa lo schiribizzo di schierare quei tre tutti in campo eh signori l'inter a me farebbe paura in prospettiva scudetto l'inter fa paura se li schiera tutti a tre no non lo so perché ho visto comunque una squadra che in avanti non ha tutti al 100% e questo è chiaro ed evidente l'autaro lukaku è normale ma anche geco l'unico che è in condizione è geco e si è visto poi è una squadra che fa degli inserimenti dei centrocampisti l'inter ti può fare male in ogni modo l'inter ti può fare male in ogni modo e questo è il problema con le punte con gli inserimenti dei centrocampisti con il tiro da fuori con le discese sulle fasce sulle palle inattive poi non ne parliamo eh signori allo stato attuale il Milan è a meno 6 la Juve no no il Milan è a meno 5 la Juve è a meno 7 l'Inter è a meno 8 giochi riaperti non lo so io aspetto dopo Napoli-Juve certo che se il Napoli non batte manco la Juve direi che il discorso potrebbe riaprirsi cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto del Napoli il Napoli a parte in fase offensiva cioè l'Inter rientrava bene l'Inter rientrava bene tant'è che gli accostetti al al solito sterile possesso palla l'Inter è la squadra perfetta per annientare questo tipo di gioco l'Inter è la squadra perfetta per annientare questo tipo di gioco magari avrà altri difetti ma quando trova queste squadre qua si esalta non lo so l'Inter perde con le squadre ciniche del Napoli li ho visti un po' inconsistenti avanti un po' svagati dietro perché potevano prendere più di un gol Darmian e Di Marco si sono mangiati l'impossibile quelli sono due gol l'Inter poteva concludere il primo tempo già sul 2-0 e diciamo che questa è la vittoria che si sono meritati la vittoria che si sono meritati in Napoli ho visto svagata un po' la difesa Kim specialmente sul gol di Dzeko va letteralmente a farfalle mi sa che era Kim sul gol di Dzeko va letteralmente a farfalle Kim e Dzeko di là non li sbaglia due passaggi dal cerchio di centrocampo lancio per Di Marco va al centro vedete quando vi spiegano il possesso palla il gioco la costruzione dal basso tutte puttanate l'Inter oggi vi ha dimostrato come in due passaggi arriva in porta e fa gol e vince la partita meritatamente sottolineo complimenti a loro certo che il campionato si riapre davvero col botto vediamo la prossima vediamo la prossima certo è che ho visto le milanesi davvero in grande spolvero davvero in grande spolvero ho visto le milanesi e anche nella zona bassa della classifica ho visto novità ho visto novità questa Sampdoria che vince in casa al Sassuolo ci penserei un attimino prima di dare la spacciata ma la stessa Cremonese lo stesso Verona sono squadre che se la giocano comunque raga sono felice che vi partito il campionato tra poco nuovo video sulla Juventus vedrò di fare le pagelle ma si dai facciamo le pagelle poi diciamo un po' cosa va e cosa non va iscrivetevi al canale ok